Che la questione difesa dei Daini fosse arrivata al limite lo si era capito già nelle ultime settimane. Ieri vi sono stati dei nuovi momenti di tensione nella zona della Pineta, animalisti da una parte, cacciatore dall'altra e questa volta la situazione è certamente degenerata. C'è stato uno scontro, non solo verbale, e la peggio l'ha avuta, il cacciatore, che è stato preso a calcio e pugni da una decina di animalisti. Questo è il racconto di Ivan, il cacciatore. Io mi sono presentato sul luogo di caccia come di solito faccio e una volta parcheggiato l'auto ho visto un assembramento di persone. Non gli ho dato molto peso ma ho subito capito che comunque si trattava di esponenti animalisti per l'ambiente. Nonostante avesse inteso che comunque la mattinata non sarebbe stato proficcio per la caccia, ho deciso comunque di scendere più per dare una presenza anche dalla parte dei cacciatori perché credo che se hanno loro il diritto di protestare per le loro idee anche noi cacciatori abbiamo il diritto di essere presenti sul posto dove si pratica l'attività venatoria e poi le ragioni le lasciamo ad altri. Comunque mentre mi avviavo all'appostamento sono stato avvicinato prima da un solo soggetto che ha cominciato ad inveire, a dirmi brutte parole e quindi ho chiamato subito prontamente i carabinieri anche perché vedevo in lontananza che stavano scendendo altre persone. Ho chiamato i carabinieri e ho ripetuto più volte il mio nome ai carabinieri e sperando che lui un attimo si placasse visto la chiamata dei carabinieri. Al che una volta che sono arrivati altre persone, circa 10-12 persone, poi in pochi minuti mi sono ritrovato circondato hanno cominciato un attimo anche a dirmi brutte parole, a minacciare me e la mia famiglia visto che avevano sentito il mio nome. Mi sono trovato seriamente in difficoltà quando ho fatto finta di riprenderli sperando di metterli un attimo in difficoltà. Ho detto... Riprenderli come con il cellulare? Con il cellulare, però nel momento coincitato non riuscivo a trovare il tasto d'accensione e quindi facevo solo finta. Mi hanno subito intimato di metterlo via, di cancellarlo e di portarmi via il telefono. Io ho messo via il telefono, ho detto ragazzi lasciamo stare, io me ne vado, non volete che faccio caccia. La chiudiamo qui, me ne vado e la mattinata finisce qui. Al che mi ha detto no no, tu con quel telefono non vai proprio da nessuna parte. Mi hanno circondato, hanno cominciato a strattonarmi e qualcuno per lo zaino mi ha tirato due o tre volte all'indietro al che mi sono sbilanciato e sono andato giù. E come sono andato giù è stata la fine, mi sono venuti tutti addosso. Qualcuno cercava di impadronirsi dell'arma, del fucile. Tant'è vero che nel tirare mi si è rotta la cordella del porta fucile, del fodero. È stata la mia salvezza perché lui poi ha lasciato il fucile ma cercando di attenere il fucile ho scoperto tutto il viso. Mi hanno assestato una serie di calci al naso, all'occhio, avevo l'orecchio sanguinante. Qualcuno ha utilizzato uno sfollagente, dandomelo nelle gambe, senza contare innumerevoli colpi al corpo, al tronco. Lei era a terra? Certamente, io ero ancora a terra. Ho cercato di difendermi come ho potuto a terra. Non so cosa ho fatto nel momento coincitato, ho cercato di scalciare, di difendermi, di trattenere il fucile perché la mia preoccupazione era che mi portassero il fucile. Il fucile è una cosa importante, è mia responsabilità quella. Fortunatamente qualcuno da poco lontano, una signora, una voce femminile, li ha distolti dicendogli di smettere. Basta, gliene avete date abbastanza. Comunque lui ha il diritto di essere qui a caccia. La provincia gli ha dato il diritto di venire. Queste sono state le sue parole. Si sono girati verso la signora ascoltandola, poi si sono rigirati verso di me, mi hanno assestato altri due o tre colpi alle costole e poi se ne sono andati come se nulla fosse, con una calma inquietante, lasciandomi lì a terra, sanguinante, perché sanguinavo naso, occhio e orecchio. Io mi sono inginocchiato, prendendo fiato, abbastanza scioccato e non potevo crederci. Ho detto, non ci posso credere che in una mattinata di questo tipo potesse succedermi questo. E a sport o denuncia? A sport o denuncia, sì. A sport o denuncia, spero che, come ne dicevo prima, sapendo gli altri il mio nome, non mi trovo qualcuno davanti a casa una mattina a minacciarmi o a farmi dei danni, perché questo è uno dei tanti, come dire, delle tante brutte cose che mi hanno detto. Mi verranno a cercare a casa a me, mio figlio, mia moglie. Siamo andati oltre. Siamo andati molto oltre, sì. Io chiedo a qualcuno che prenda la questione in mano e faccia veramente qualcosa per l'incolumità non solo dei cacciatori in quanto cacciatore, ma per l'incolumità di tutti, perché è veramente pericolosa questa situazione. Comincia ad essere molto tesa, molto pericolosa.